Beh, viviamo tempi difficili chiaramente, non solo per l'epidemia ma in generale insomma per il sistema economico. Direi che la sfida che dobbiamo raccogliere come Conf Cooperative, come sistema di recuperazione, è quello che all'interno di questa crisi ci sono anche dei segnali di opportunità che dobbiamo cogliere. Questo è il messaggio di Dario Parisini, riconfermato alla presidenza di Conf Cooperative Trieste ieri nel corso dell'Assemblea Provinciale. Un bilancio, quello intracciato da Parisini, nel quale sono state ricordate le numerose iniziative attuate dal 17 al 19, soprattutto al fianco del porto di Trieste. Il Presidente ha dunque espresso soddisfazione per la sentenza del TAR che restituisce il suo ruolo a Zeno D'Agostino. La cooperazione è sempre stato uno strumento flessibile, capace di intuire anche percorsi nuovi di sviluppo. La nostra responsabilità è quella di partire dai valori che sono storici, centenari, del nostro sistema e partire da questi valori e costruire un'alternativa, un nuovo modo di intendere anche l'economia. Credo che questa sarà soprattutto la sfida futura. A fronte del calo da 117 cooperative del 2015 alle 94 della fine 2019, Parisini ha lanciato un appello alla politica. Credo che la politica dovrebbe incentivare il nostro sistema. Nel passato è stato fatto, ci sono ancora delle misure incentivanti che però si sono ridotte. Io credo che bisogna avere il coraggio, e questo chiedo alla politica, di rimettere in campo quelle risorse necessarie per fare in qualche maniera riattivare questi processi virtuosi del territorio attraverso lo strumento della cooperazione.